Buonasera. Buonasera. Caspiti di nuovo l'uomo nero. Sono venuto a declamarvi alcune delle mie poesie più riuscite. Anche oggi? Come mai scegli proprio questo posto? Scusi. Eravate gli unici aperti a questo. Vabbè, allora lei, visto che siamo gli unici aperti, si delizzi con queste mattonate. Sì. Grazie, lei è veramente gentilissima, non ce la scordiamo. È piacere. Vorrei farvi ascoltare... Ma si presenti, scusi, il suo nome? Sono Mino Pausa. Mino Pausa. Vorrei farvi ascoltare dalla mia prima raccolta di poesie dal titolo Nel trigesimo del nostro amore. Una poesia che si intitola... Disabitato. Urca, che titolo! Scusi, ma perché ci prendono queste crisi di risa a lei ogni volta che fa... È un lamento interiore. Coraggio, legga questa sua poesia, lamento interiore. Adesso le do un lamento cervicale, le faccio vedere io. Coraggio, ci sbrighi. Mi piace. Quando tu mi hai lasciato, anche io me ne sono andato. Veramente profondo, guardi, questa lirica. Bene, vorrei concludere oggi. Perché ci sentiamo anche domani, ci sentiamo? Sì, vengo. Ma guardi che non è necessario, noi stiamo bene così come stiamo. È piacere. Scusi, ha ragione, scusi. Vorrei concludere oggi con una delle mie poesie veramente più riuscite. Figuriamoci. Ha possesso un titolo... Le tue ultime parole. Caspite, che titolo! Che senso. Dicesti... Solo la morte potrà dividerci. Ci siamo diversi. lotta più... Oh... Oh Kapiti... Oh... Oh... Grazie a tutti.